Questa giornata il gruppo B e Universal, si è appena imposto 2-1 su Yorl Boys e qui con me, come qui Matteo di Yorl Boys, il difensore Simone Restuccia. Simone, avete giocato un ottimo secondo tempo con una squadra che è sulla carta. me lo concedi, era più quotata di voi, tu hai chiuso attivamente su Gabriel, su Catania, anche su Prioro, insomma che sono giocatori di tutto rispetto, ovviamente cos'è mancato rispetto al secondo tempo dove avete giocato meglio? Il problema è sempre avanti, manca la punta che trovavamo loro, la buttava dentro, trovava la zona, la posizione, ogni volta cerchiamo sempre di trovare noi fraseggi, però non va, serve qualcuno veramente che prende il pallone, prende la squadra, la porta avanti, fango sempre i gol, è una dimostrazione che ogni volta mi vado in campo è sempre un difensore, devo trovare qualcuno che veramente prende la palla, da centrocampo e poi buttare la palla dentro. Però rispetto alle prime partite dove comunque avete mostrato un gioco più così di arretario questa volta comunque vi state amalgamando? Sì, perché comunque è la prima volta che facciamo una squadra tutti insieme, siamo amici, ci stiamo andando su, ogni partita serve per andare avanti, perché è il gioco, arrivi però. Ovviamente punterete per il 3K? Sicuramente, sicuramente. Io ti auguro un buon gruppo a te e tutto il vostro, complimenti. Ciao. Grazie. 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 Grazie a tutti